Gentili telespettatori, buona giornata. È già uno, diciamo come possiamo definirlo, un protagonista di internet portato a processo dalla Meloni perché diceva di essere il suo fidanzato con tanto di foto e balle al seguito, quindi a processo per diffamazione, aggravata a mezzo stampa. E poi troviamo le foto di un altro finto fidanzato della Meloni che però il protagonista, diciamo questo finto fidanzato, non è stato lui a mettere in giro questa storia, ma Corona, quel personaggio veramente discutibile, molto discutibile, ha sui suoi social scritto che Manlio Messina, un deputato di Fratelli d'Italia, avrebbe una storia con Giorgia Meloni. Manlio Messina ha telefonato a Corona, dice che lo conosce da tempo, gli ha chiesto cos'era questa storia e Fabrizio Corona gli avrebbe detto, no io mi sono inventato la storia per aumentare i click sul mio sito, così riferisce Manlio Messina negando che ci sia qualche storia con Giorgia Meloni, però vengono fuori anche delle fotografie che sono state tagliate o alterate. Cosa vuol dire? Foto dove ci sono 3-4 persone, dove le altre persone al di fuori di Giorgia Meloni e di questo Messina vengono ritagliate via col Photoshop, vengono cancellate le altre persone, quindi sembra nelle foto che siano solo loro due, questo Messina e la Meloni. In realtà alcune foto sono loro due, visto che sono due politici dello stesso partito, ci sono migliaia di foto come quelle dove c'è il politico Meloni e il politico XYZ che si fa la foto con il capo politico, quindi ci sono alcune foto che sono vere dove vengono ritratti loro due, ma tante altre foto sono praticamente ritagliate, modificate col Photoshop per far vedere che loro hanno tante foto insieme, quindi se sono qualche foto tra politici è normale, ma quando sono tante queste tante foto pubblicate dovevano servire a dimostrare che c'è una storia. La testata giornalistica Dillinger pubblica una serie di scatti fotografici che farebbero intendere un legame tra il capo del governo e un altro uomo, il nome che riportano è quello di Manlio Messina, deputato di Fratelli d'Italia, deputato siciliano, e Open pubblica queste foto, le analizza una per una e dice che su un totale di cinque fotografie due risultano ritoccate eliminando una terza persona, una terza fotografia risulta ritagliata escludendo altre persone, due foto su cinque risultano vere, mentre le altre due vengono proprio con Photoshop cancellate le persone e rifatto lo sfondo, e un'altra foto dove c'erano quattro persone vengono ritagliate queste due persone e si lasciano la parte dove c'è questo Messina e la Melonia. E così con la voce che arriva da Catania, la Premier avrebbe un legame affettivo con uno dei nuovi politici rampanti dell'isola, bello e bravo, in gran carriera anche lui, con due ciuffi, uno di qua e uno di là, non uno ma due ciuffi, e si chiedevano su vari giornali se fosse proprio lui ad aver riportato l'amore nel cuore spezzato della Premier di tutti gli italiani. E così introduce l'articolo, la redazione di Dillinger sul proprio sito, pubblicando queste cinque fotografie che vedete nella copertina, nella foto di copertina. In quale contesto sono state scattate, a quanto risalgono, e poi si scopre che sono tutte, quasi tutte taroccate, poi ce ne sono un paio che sono foto normalissime dove il capo politico si fa la foto con il politico, no? La classica foto in due è così, quindi, e quindi direbbe un mio amico. E lo stesso Dillinger scrive, difficile dirlo se c'è qualcosa, non sarebbe la prima volta, ma potrebbe trattarsi benissimo di una voce, ma come dicevano gli antichi, vox popoli, vox dei, come dire, quando ci sono delle voci, una base c'è, una base di verità. Quindi dice, sono voci, ma le voci, sappiamo che le voci derivano da qualcosa di reale in fondo, però in realtà le foto sono false, ritagliate, alterate, cancellate le persone che ci sono dietro. In effetti, se voi guardate una delle foto, per esempio, c'è la Meloni, c'è questo Messina, e poi c'è un'altra persona che viene ritagliata, e tu dici, come fai a sapere che è ritagliata? Perché dietro questa foto c'è una vetrina di un negozio, e nella vetrina del negozio ci sono riflesse le persone della foto. Quindi nella vetrina del negozio, distante 6-7 metri, si vedono tre persone, ma nella foto sono solo due, perché quella di qua viene ritagliata, ma a 6-7 metri si vede ancora nel riflesso della vetrina. Quindi si vede che c'è un'altra figura seduta, però è stata ritagliata dalla foto per far vedere solo i due, è come se fossero due fidanzati che vanno in giro e si fanno fare le foto pubblicamente, mentre una ha il compagno con la figlia a casa, va in giro per le città a farsi fare le foto col presunto fidanzato. Immaginatevi che prima di tutto un personaggio famoso che tradisce non si fa fare le foto in giro per le città sorridendo. Queste sono le classiche foto che fanno i politici tra di loro. Il politico di un partito che si fa la foto col suo capo politico per far vedere che lui è vicino al capo, è uno dei quelli della cerchia. Insomma, è la propaganda che fanno poi tutti i politici, quelle di farsi la foto con il capo politico per dire guarda, io sono importante, non credere che sono uno piccolo, non sono un pesce piccolo ma sono un pesce grosso, guarda, noi siamo in confidenza, siamo vicini, ecco, quindi è normale che i politici si facciano queste foto. Grazie a tutti, arrivederci a presto. Grazie a tutti.